Trovare il colpo di fulmine lo puoi trovare anche a casa tua fuori, per strada, al supermercato. Tu sei qui anche per conoscere delle persone, per capire se magari puoi provare un sentimento al di là dell'aspetto fisico. Perché se è solo quello, non ha senso il programma in sé, perché tu vieni qua, ne vedi una, la scegli e la porti a casa. Però invece no, c'è un percorso di conoscenza, si va un po' oltre, anzi. Se tu ti basi solo sull'approccio fisico, non ha senso il programma, che ha un percorso lungo, dove ci sono a Davide tre ragazze che gli piacciono. Sicuramente è una preferenza Davide, lo specifica, quindi che dovrebbe fare secondo il tuo discorso? Prende la preferenza e portarla a casa, invece no, insiste e continua perché gli altri due hanno qualcosa. Tu così il video l'hai visto e le scegli in base a che cosa? Perché ti piacevano di più. In base a quello che mi dicono, in base a quello che vedo nel video. Appunto, siccome ti fanno vedere tante ragazze, ne scegli tre, c'è un motivo. Non ho viste tantissime Gianni, non ho viste tantissime. Esattamente, io le scelgo, poi ci parlo, le vedo, le sento fisicamente e se non percepisco nulla, ma perché devo obbligarmi a tenere una persona?